verbale dell'inquisizione di Venezia relativo all'interrogatorio del pittore Paolo Cagliari, detto il Veronese. Ci è pervenuto integralmente con le sue risposte talvolta sfrontate, talvolta disarmanti. Per fortuna l'inquisizione era poco potente a Venezia, altrimenti non l'avrebbe passata liscia. Il Veronese difende con coraggio la libertà dell'arte. Dibattimento. Sapete la causa perché siete stato costituito? Signori no. Potete immaginarla? Immaginarla posso ben. Il priore de San Juan e Polo mi disse che era stato qui e che le vostre signorie illustrissime gli avevano dato commission che dovesse far far la Maddalena in luogo del Can. E mi che risposi che volentieri avrei affatto quello ed altro per onor mio e del quadro, ma che non sentivo che tal figura della Maddalena potesse giacere, che le stesse bene. In questa cena che avete fatto in San Giovanni Paolo, che significa la pittura di colui che gli esce il sangue del naso? L'ho fatto per un servo che per qualche accidente li possa essere venuto il sangue dal naso. Che significa quelli armati alla todesca, vestiti con una lambarda per uno in mano? Noi pittori si pigliamo licenza che si pigliano i poeti e i matti. E ho fatto quelli due alabardieri, uno che beve e l'altro che mangia presso una scala morta, i quali sono messi là che possino far qualche ufficio, parendomi conveniente che il padron di casa, che era grande e ricco, secondo che mi è stato detto, dovesse avere dai servitori. Quel vestito da buffone con il pappagallo in pugno, a che effetto l'avete dipinto in quel telaro? Per ornamento come si fa? Chi credete voi veramente che si trovasse in quella cena? Credo che si trovassero Cristo con i suoi apostoli. Ma se nel quadro ci avanza spazio, io l'adorno di figure, siccome vi è incommesso, e secondo le invenzioni. La commission fu di ornare il quadro, secondo mi paresse. Io faccio le pitture con quella considerazione che è conveniente, che il mio intelletto può capire. Se li par conveniente che alla cena ultima del Signore si convenga dipingere buffoni, imbriaghi, todeschi, nani e simili scurrilità. Signori no. Perché dunque l'avete fatto? L'ho fatto perché presuppongo che questi siano fuori del luogo dove si fa la cena. Non sapete voi che in Alemania e in altri luoghi, infetti di eresia, sogliono con le pitture diverse e piene di scurrilità e simili invenzioni, dileggiare, vituperare e fare scherno delle cose della Santa Chiesa Cattolica. Per insegnar male dottrina alle genti idiote e ignoranti? Signor sì che l'è male, ma perciò tornerò ancora a quel che ho detto, che ho l'obbligo di seguire quelli che hanno fatto i miei maggiori. Che hanno fatto i vostri maggiori? Hanno fatto forse cose simili? Mi c'è l'agnolo a Roma? Drento la cappella pontificata? Vi è depento il nostro Signor Gesù Cristo, la sua madre e San Suane, San Piero e la corte celeste, le quali tutte sono fatte nude, dalla Vergine Maria in poi, con atti diversi, con poca reverenza. Non sapete voi che dipingendo il giudizio universale nel quale non si presume vestiti o simili cose, non occorrea dipinger veste e in quelle figure non vi è cosa se non di spirito e non vi sono buffoni, né cani, né armi, né simili buffonerie. E se vi pare che per questo o per qualsiasi altro esempio di aver fatto bene, ad aver dipinto questo quadro in quel modo che sta, e se vuol difendere che il quadro stia bene e condecentemente, Signore illustrissimo, no che non lo voglio difendere. Ma pensava di far bene e non ho considerato tante cose pensando di non far disordine a niuno, tanto più che quelle figure di buffoni sono di fuora del luogo dove è il nostro Signore. Grazie. Grazie.